Sono Le09 e oggi faremo un nuovo video di Brawl Stars Oggi vi farò vedere delle clip che ho fatto io su delle aperture delle casse che ho fatto delle clip perché non avevo tanta pazienza e quindi ho aperto le casse mentre facevo dei video e... beh, che vi posso dire? Vi lascio al video cioè, no, vi lascio alle clip Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti